Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! E salve gente, ben ritrovati in questo nuovo video di Boom Beach Frontlines. Esattamente. Ragazzuoli, io vi faccio uno spoiler enorme. Non ve lo dovrei fare, ma ve lo faccio. Io vi dico di guardare soltanto la classifica italiana, perché ragazzi fra un po' il signor Vapor forse entrerà in classifica. Io vi dico tenete d'occhio questa season la classifica italiana perché potrebbero succedere cose. Vi dico soltanto questo. Tenetevi belli, pronti, anche con video molto freschi, quindi attivate la campanella che fa sempre comodo, mi raccomando. Perché siamo qua su Boom Beach Frontlines? Ebbene sì, andiamo a fare i soliti spoiler giornalieri delle truppe perché ne vengono aggiunte ogni giorno. Io non riesco più a star dietro. Oggi facciamo un bel riassuntone delle ultime aggiunte, così almeno vi preparate all'uscita del game che dovrebbe essere esattamente fra tre giorni, il 4 dicembre. Mi raccomando, rimanete qua aggiornati sul canale perché vi porterò una guida su tutto e anche come scaricare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi sono altri dettagli. Detto questo, spostiamoci su Discord che vi faccio vedere le ultime truppe. Eccoci gente, ben ritrovati nel nostro Discord. Ormai è casa nostra questo Discord, ci torniamo praticamente tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. E oggi siamo qua per andare a vedere qualcosa di molto molto succulento, soprattutto inerente alla nuova mappa. Ebbene sì, è stata spoilerata anche una mappa, lo so. Non ve lo dovevo dire, ve lo dico lo stesso. Andiamo su Announcements. Gli ultimi sono delle truppe, i Tank e i Grunts, che però andiamo a vedere in un altro video. Io vi ho fatto vedere il primo gameplay ufficiale insieme alla cura e oggi andiamo a trattare la nuova mappa e il medico. Avevamo visto, eravamo arrivati fino a qua, quindi ci mancano la Shingan, che è molto molto semplice, semplicemente medio raggio. Costa poco, questo low cost, ragazzi, molto importante perché se non so se vi ricordate, quei tastini blu che si sbloccavano nel gameplay, in alto a destra, non erano alla valuta del gioco, ma bensì servivano proprio in game per aumentare il nostro game, la nostra potenza all'interno della nostra difesa. Una cosa molto importante, prima di tutto andiamo a vedere il medico, che è molto molto bello come gameplay, sicuramente molto molto interessante, cura veramente veramente tantissimo e OP secondo me è una cosa del genere e potrebbe essere veramente veramente tanto tanto rivoluzionario una cosa del genere, ma oggi sono proprio simpatico. Vi faccio vedere anche i Grunts e i Tank, tanto per rimanere aggiornati. In pratica i Grunts sono questi piccoli robottini, cosa molto importante, su Discord c'è il bot del server che si chiama Grunt. Molto interessante questi robottini che cadono dal cielo, come non so se si è visto, queste palline qua che cadono sono proprio questi piccoli Grunt che si catapultano in partita e hanno molta poca vita, però sono caratterizzati dall'essere in tanti e quindi causano veramente veramente tanto danno e secondo me questi qua livellati saranno un'ottima truppa. Dall'altra parte invece abbiamo il Tank, il Tank che è molto importante perché ragazzi il Tank ricorda molto anche questo qua Rushworth, quel nostro cannone, quel carro armato che abbiamo visto già di solito e sicuramente ragazzi questo tirerà le pizze, soltanto per farvi capire, cioè guardate la pizza che li ficca quello là, li toglie 532 di danno. Una cosa clamorosa e spara anche abbastanza veloce, cioè non è che spara lento, quindi veramente veramente forte questo Tank e secondo me sarà un'ottima truppa d'attacco che verrà molto molto utilizzata, quindi da non, mi raccomando, dimenticare. E qui una cosa importante che vi faccio notare, che forse qualcuno di voi non ha notato, è che all'inizio viene fuori il tasto Activate Grunt, quindi questi Grunt saranno una specie di incantesimo, che da quel che ho capito, costerà qualcosa, costerà qualcosa, ma su questo non andremo a parlare in altri video. Il video di oggi però è rincentrato sulla mappa, quale mappa? Ebbene sì ragazzi, è stata spoilata questa mappa, la prima mappa ufficiale, The Tiki Passage Map. The Tiki Passage Map è la mappa che abbiamo visto in tutti questi sneak peek di questo tempo, in cui ci sono appunto due zone, una è questa e l'altra è questa qua, e c'è tutto questo corridoio in mezzo, molto molto ganso, che collega le due basi. Molto molto carino. È una mappa stile verde, molto bella, con questo legno, ricorda molto Rush Wars, da questo punto di vista questa mappa qua, però il gioco è totalmente diverso, quindi non mi venite a dire che il gioco sarà uguale a Rush Wars, perché non è così. Però sicuramente è molto molto interessante, soprattutto questi fiumiciattoli, che bisogna vedere un attimo come organizzeranno il tutto. Diciamo che secondo me questa mappa potrebbe effettivamente essere questa. Se effettivamente voi guardate, ci sono questi laghetti, c'è questa zona di conquista, ci sono tutti questi laghetti molto molto carini coccolosi, e sicuramente questa qua sarà una delle mappe più giocate, e penso corrisponda alla modalità hot zone, perché da quel che ho capito ci sono anche varie modalità. Ma purtroppo non sono state ancora spoilerate, quindi dovremmo semplicemente aspettare il tutto. Andrei un attimo a rivedere velocemente questa cura, che anche questo è un incantesimo, come vedete quando c'è questo tastino qua, Activate, è sempre un incantesimo. Devo soltanto capire se effettivamente questa cura costa o no. Allora, noi siamo a 939, guardate ben in alto a destra come vanno i punti, 944, e poi vedete che scendiamo di punti ad un certo punto, effettivamente quei punti persi vanno a simboleggiare questa attivazione della cura. Quindi molto probabilmente anche la cura avrà un suo costo, e bisognerà poi capire bene qual è. Qua non c'è scritto niente, c'è semplicemente scritto Long Duration, Medium Raggio, quindi il raggio medio, e cura fino alla fine del tempo. Quindi sicuramente molto molto simpatica come aggeggio, vedremo poi in partita, e all'interno delle modalità come si comporterà, ma questo è un altro discorso. Quindi gente, io spero che naturalmente il video vi sia piaciuto, e che vi siate divertiti come al solito su questo fantastico gioco che sta per uscire, non vedo l'ora. Detto questo, io vi ricordo, attivate la campanella, perché nei prossimi giorni vedete anche un box opening, niente male, ho 20 casse da aprire, c'è questo signor Low, che andremo a potenziare, e quindi sono veramente veramente curioso di sapere come andrà questo push, come andrà questa stagione di Brow Stars. L'obiettivo ragazzi, non ve lo sto a rascondere, sono le 30.000 coppe, siamo veramente molto molto carichi, ringrazio Sprint con cui sto pushando, niente, noi ci becchiamo in un prossimo video, io spero che questo vi sia piaciuto, passate le social in descrizione, mi raccomando, bella boys. Ciao a tutti,